Domenica 6 gennaio, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa, subito i quotidiani, subito il primo piano Molise che apre con la politica, sorpresa della Befana, Toma a zero la giunta, il governatore Revo Caledele che si prende una pausa di riflessione, avoco a me gli incarichi, valuterò come ridistribuirli e come variare, Guido una Ferrari, io corro per vincere, PD e 5 Stelle all'attacco, ha fallito in 7 mesi, dibordate alla Romagnolo, rappresenta la rega, aspetto un chiarimento da Salvini, ha detto Toma ieri durante il Tg di Teleregione, la consigliera replica, lui guida la rossa, io la ruspa, il punto sulla cultura in Molise va de retro, torna indietro di incoronata dell'Ellis, in taglio centrale migliorano le condizioni meteo, ma dopo l'epifania, nuovo fronte freddo e neve, la sciabolata artica molla la presa, insidia ghiaccio, lunedì scuole chiuse nel Capologo a Campobasso e in diversi altri comuni, a Ferrazzano, Boiano, Monte Falcone, Torella, Cerce Maggiore, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sagno, Cerro al Volturno, Pesco Lanciano e sospese in via precauzionale anche le attività didattiche dell'università. E' ancora polemica, 1,3 milioni per il piano del turismo, Iorio fa eco alla Romagnolo, dubbi sull'affidamento a sviluppo Italia, Termoli, la cattolica raddoppia, apre il centro polispecialistico, domani l'inaugurazione, al Santimotio va al pronto soccorso, i ladri gli rubano la Jeep nuova di Zecca. E poi lo sport con l'impresa dell'Europea 92 contro la Capolista, Roboante 3-0 contro il Santa Teresa di Riva. Ed ancora calcio a 5 per la Chaminade arriva un pari nella lunga trasferta di Fano, pallacanestro Magnolia di scena a Umbertide, Campobassane nel Fortino Umbro. Il quotidiano del Molise, caos regione, Toma, a zero la giunta e volano gli stracci, salterà un assessore, ci sarà anche una rimodulazione delle deleghe oggi primo summit. Il governatore chiederà la firma di un documento ai suoi opposizioni all'attacco. Rischiano Mazzuto e Di Baggio, nomine negli enti e fazioni interne alla base della frattura. E poi post maltempo, scuole chiuse in diversi comuni, emergenza agli sgoccioli, ma per il ritorno alla normalità occorre aspettare a Capracotta il paese della neve alle prese con tante criticità. In taglio alto anche la ghisa finisce nella lista dei ladri, ma il colpo fallisce miseramente. A Boiano istruzione, ITE, miglior istituto ad indirizzo tecnico-economico. Poi lo sport molisane di Sereddì a riposo, forzato, causa maltempo, a Selvapiana i tifosi e staff spalano il campo. Agnone rinviata anche la gara di Granata, Giulianova allenamento nel palazzetto dello sport. Ora i quotidiani nazionali, il giornale di Milano Salvini cede e paga lo stipendio agli immigrati, questa l'apertura. Quante bugie sul reddito, polemica sulla bozza, ricorso dei governatori contro il DL Sicurezza, riforma delle pensioni. Ecco tutte le cifre e i trucchi. E poi indignati per i barconi, non per i terremotati e ai naufraghi italiani di Amatrice, resta solo la solidarietà di Serie B. Le casette sotto la neve a 8 gradi sotto zero. Bimba morta sullo slittino, divieti scritti solo in tedesco. La madre indagata per omicidio colposo. Di spalla c'è l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, la Rai 2 di Freccero, tv del passato per il governo senza futuro. Il Corriere della Sera, tetto ai fondi per il reddito di Maio, non è una misura per gli stranieri. Regge il patto con Salvini. Salvini, bozza del decreto, si aumentano le domande, sussidi sotto i 780 euro, pensioni quota 100 per tre anni. C'è la vignetta di Giannelli con la nave Sea-Watch e poi la letterina. Cara Befana, portaci via Salvini, scrivono i migranti dalla nave. C'è l'intervista a Di Maio, migranti accogliamo, ma la linea dura, resta il leader del Movimento 5 Stelle su donne e bambini. In taglio centrale la fotonotizia, gile gialli, pochi in piazza ma vincono i violenti. La Repubblica, reddito, ecco chi ne ha diritto ma il finanziamento è a rischio. Questo è il titolo di apertura, pensioni quota 100 da aprile, Sea-Watch, Fico e Di Maio, alleati anti-Lega, però la Unione Europea faccia di più. C'è l'analisi di Roberto Perotti, il divario tra l'illusione e la realtà. In taglio centrale Macron, violenza estrema alla Repubblica. Parigi, assalto con la ruspa al Ministero. La furia dei gile gialli non si spegne più. Andiamo su il messaggero, il quotidiano romano, tetto al reddito, platea ridotta, questo il titolo di apertura. Pronto è il testo del decreto, assegno fino a 1.330 euro, sarà tagliato. Se le domande sono troppe, dopo 18 mesi bisognerà accettare ogni offerta di lavoro, quota 100, pensione da aprile a 62 anni. Colloquio con il Ministro, alto là alla CEI, Salvini, gli alleati parlino ma decido io, a Palazzo Chigi con i sindaci non vado. Caso rifiuti a Roma, caso rifiuti a scuola, la Grillo, Gela Raggi, il Comune pulisca. E poi gile gialli all'assalto in tutta la Francia, una ruspa contro il muro del Ministero. Guardate questa foto che spiega più di ogni altra parola. Andiamo sul Sole 24 ore, il quotidiano politico, economico e finanziario, pensioni, reddito. Ecco il decreto, quota 100 al via dal primo di aprile. E chiudiamo con la gazzetta sportiva. Il campionato è fermo fino al 20 di gennaio e tiene banco il calcio mercato. Innanzitutto con questa notizia, Godinter con la formazione di Spalletti che segue Godin, le strategie del mercato nero-azzurro. Dopo il centrale dell'Atletico, la società cerca altri uomini di carisma come Herrera, Robben e anche giovani talenti. In prima fila c'è Barella ma anche Andersen. In taglio alto si parla di Gattuso, forza Gattuso c'è l'intervista a Sheva, a Shevchenko. Mentre di Spalletti c'è ancora il mercato con la Juve che punta a Ram 6 per avere più reti dal centrocampo. C'è anche il focus sulle altre squadre, da Meite a Zaniolo. Ecco i nuovi tesori del campionato. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti, diamo uno sguardo al palinzesto. A cosa troverete oggi sulla nostra rete, lo vediamo insieme. Alle 11 c'è Viva la Musica con Gigione, alle 11.50 Salus TV, alle 12 punto verde. Alle 14 l'informazione troverete proprio me, alle 16 punto la rovescia, alle 17.30 Molise Sport, con lo speciale Amarcord, Campobasso, Milan, Coppa Italia 1988. 19.30 ancora l'informazione, 21 punto verde, 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona Befana, buona mattinata, arrivederci. Grazie a tutti.